che bello ho visto lo meglio la sera muoio dalla voglia di vedere guardo o non guardo dovrei sentire qualche cosa eppure non sento niente perfetti con gli orecchini su di me 60 kg a 5 metri al secondo diviso 800 kg fa .375 signora avanti non c'è niente da vedere avanti, circolare l'intervento la 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 Grazie a tutti